Andrea, parto con una considerazione che forse ti farà sorridere. In queste due partite, 46 punti di scarto di Cantù nei confronti delle avversarie, c'era scritto Cantù sulla maglia, ma sembrava Siena. Magari. Guarda, io penso che domani mezza Italia cestistica farà il tifo per Cantù. Solo per battere la noia. Loro sono più bravi, sono più attrezzati, sono più avvezzi a vincere. Però abbiamo una freccia, vediamo se la vendiamo a bersaglio. Non abbiamo nulla da perdere, lo vogliamo fare veramente con grande serenità e grande voglia. Senti, cos'è successo a Mazzarino in queste due partite? Perché anche oggi ha avuto un secondo quarto clamoroso, 17 punti, 5 triple, veramente un highlander. Bella similitudine. Io di Mazzarino non voglio più parlare perché secondo me andrebbe veramente... A Torino c'è la sacra sindone, quindi siamo a quei livelli lì. Io invece quello che sottolineo è come i miei giocatori l'abbiamo cercato, perché abbiamo cavalcato il giocatore che stava facendo canestro. Non è facile perché gli altri devono mettere da parte un po' il proprio ego. A tutti piace fare canestro e secondo me lì è la forza della nostra squadra. Forza della tua squadra, testimoniata dal fatto anche che Marco Schvilli, probabilmente il giocatore con più qualità, in queste due partite è stato quasi ai margini, al servizio degli altri. Ha fatto un po' fatica al tiro, ma si è tenuto per domani. Senti, un'ultimissima cosa. Quale potrebbe essere la chiave per far saltare il fortino di Siena? Resistere. Quando loro ti mettono all'angolo e cominciano la granuola di pugni, resistere. Poi se sei ancora in piedi puoi provare a giocare. Grazie. Grazie.